Siamo alla sedicesima giornata di campionato di seconda categoria GnB L'Atletico Pomarico sfida fuori casa all'Ostigliano su un campo impraticabile a causa della continua pioggia Inizia così il primo tempo con una bella gara dei pomaricani che creano tante palle gol ma senza riuscire a segnare Nel primo tempo l'Ostigliano andrà in rete e dopo 15 minuti della prima rete segneranno in poco tempo il secondo e il terzo gol Il primo tempo finirà con il parziale di 3 reti a 0 Nel secondo tempo il mister Cetera esordisce come giocatore nei panni del portiere sostituendo Mancino Nonostante il 3 a 0 il mister infonde carica i propri giocatori Un pomarico che spinge al massimo che lotta disperatamente su tutti i palloni bloccando gli avversari Intorno al 65esimo il centrocampista Rocco Lofrumento va in rete Il pomarico inizia a crederci sempre di più Ma nel suo momento migliore arriva l'espulsione proprio di Lofrumento Ma la squadra anche in 10 uomini non si abbatte Con un Matteo Musillo che colpisce la traversa E dopo qualche minuto arriva la rete di Perillo Nonostante il bel gioco espresso la partita poi finirà con il risultato di 3 a 2 per l'Ostigliano Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti